In realtà c'erano anche un sacco di moto. La giornata è stata veramente veramente bella, mi sono divertito un casino ad andarci e fortunatamente essendoci stato venerdì c'era tanta gente ma non così tanta come potrebbe esserci magari un weekend e quindi siamo riusciti veramente a vedere quasi tutto. Chiaramente queste sono le mie impressioni di moto viste dal vivo, toccate con mano perciò posso basarmi solo su quello riguardo diciamo un po' al mio giudizio e quello che mi hanno trasmesso queste moto quando sono andato a vederle. Vorrei partire subito da Ducati perché secondo me era la presentazione un po' più importante di tutta ECMA. Sono sicuro e so anche che in molti hanno storto molto il naso, io invece vi posso dire che mi è piaciuta tantissimo. Mi è piaciuta tantissimo soprattutto uno a livello estetico e due quando mi ci sono seduto sopra ed era la prima volta che comunque mi sedevo su una Ducati Panigale mi ha dato proprio idea che Ducati voglia rivolgersi proprio a un pubblico molto più ampio. Faccio un'altra premessa, non sono mai salito su una Ducati, non ho mai avuto occasione sinceramente però mi è piaciuta un sacco, primo per estetica perché l'ho trovata molto sobria pur mantenendo comunque lo stile italiano di Ducati. Non sono un amante, non sono un fan delle troppe ali queste famose ali aerodinamiche che ormai un po' tutti i costruttori stanno mettendo quindi ho trovato principalmente una linea molto pulita. La scelta di mettere il doppio scarico sotto codino a me è piaciuta. Così con Andrea ci siamo un po' batti beccati nel senso che a lui faceva veramente schifo il giro del tubo di scarico che arriva poi nella parte finale. A me sinceramente non ha dato più di tanto fastidio. A livello di motore, di elettronica sicuramente non posso dirvi nulla. So che ovviamente non è più un motore desmotronico quindi abbiamo un, tra virgolette, passatemi il termine, normale motore bicilindrico AV però secondo me con quelle caratteristiche che rendono molto più usabile quel panigale V2 soprattutto in strada. Quindi 120 cavalli perfetti per andare ovunque e per divertirsi ovviamente perché hai una Ducati sotto le chiappe e soprattutto l'ergonomia, soprattutto la seduta sportiva, molto sportiva, sempre molto sportiva come ovviamente la panigale deve essere però meno estrema appunto parlando con Andre che lui ha avuto già modo di stare su un panigale recente, meno estrema, meno caricata in amanti quindi sicuramente più comoda. E a me piace molto questa cosa perché secondo me, che comunque sono ignorante in materia Ducati, apre un po' di possibilità a tutti quanti di poter pensare di passare a una sportiva però senza andare a cadere troppo sull'estremo come poteva essere magari il vecchio V2. Perciò per me visivamente, avendola toccata con mano, avendola guardata bene da vicino per me la nuova panigale V2 assolutamente promossa ma in tutti gli ambiti, in tutti i sensi. Ovviamente è bellissima anche la nuova Street Fighter V2 che soprattutto nella parte posteriore della moto richiama tantissimo il nuovo panigale. Sinceramente se dovessi scegliere tra Street Fighter, quindi la Naked e il panigale, quindi la sportiva, ovviamente andrei sul panigale perché esteticamente è molto più bella però sono sicuro che sia una gran moto anche lo Street Fighter V2 nuovo. Per stare sempre sulle sportive io passerei subito a Yamaha con R9. Finalmente mi ci sono seduto sopra finalmente l'ho vista anch'io dal vivo. Andre l'aveva già vista qua a Genova la settimana scorsa. Bella, molto molto bella. Poi dopo che hanno tappato il buco sotto il sabatoio ancora meglio. Sicuramente il motore sarà una bomba perché è lo stesso motore che monta la MT-09, moto che ha avuto modo di provare secondo me ha delle prestazioni incredibili su strada. Quindi CP3 assolutamente va alla grande. Se dobbiamo parlare ovviamente soltanto dalla questione estetica, cosa che è l'unica cosa che potevo vedere e toccare con mano lì a Eikma, gran moto, molto bella esteticamente, falla anche brutta nel senso, no? Rispetto ovviamente al nuovo panigale V2 che ho citato prima, questa l'ho trovata molto più caricata in avanti quando mi ci sono seduto sopra e quindi l'ho trovata lì per lì un po' più scomoda, proprio anche da starci, da capire dove vanno le chiappe, dove vanno le braccia, dove vanno le ginocchia. Quindi con il R9 secondo me andiamo proprio a un livello di sportività molto molto elevato. Senza dubbio sarà una gran moto e chi la acquisterà, chi la sceglierà, chi la prenderà sicuramente si divertirà un casino e ci andrà veramente bene. Però come parlavo con Andre poi lì per lì allo stand Yamaha, sinceramente non è una moto che forse utilizzerei tutti i giorni. Poi chiaramente lo fai lo stesso, per carità, però io devo pensare nella mia testa effettivamente l'utilizzo che ne faccio io della moto. Forse non è quella la moto indicata per me, però al di là di questo che è una cosa molto soggettiva, mi è piaciuta tantissimo anche questa R9. Ora passerei a parlarvi qualcosa di Honda, che non è che ha presentato grossissime novità in termini di moto perché le abbiamo tra virgolette già viste. Era presente di nuovo la Hornet 1000, molto bella, molto molto bella. Mi ha ricordato la mia Hornet 750, ovviamente con un bel 4 cilindri e 150 cavalli sotto, forse anche un po' troppi, però ci sta. Molto comoda la seduta, diciamo che è la mia Hornet un po' più grossa e ovviamente con un motore più potente e soprattutto 4 cilindri. L'unico punto che potrei fare su questa Hornet 1000 è che quella in esposizione con lo scarico SC Project, che ho trovato veramente enorme, era grossissimo. Secondo me aveva un attimo un difetto perché quando ti andavi a sedere sopra, andavi subito a toccare con il tallone e con la scarpa. Ora, probabilmente quello scarico così SC Project magari non trasmette per niente calore, è fatto apposta, il paracalore è veramente tosto, però non lo so, non mi è piaciuta questa cosa, ecco. E anche la versione SP aveva lo stesso problema, anche se aveva lo scarico standard, lo scarico stock, molto molto grosso anche quello, però vedevo la gente che si sedeva sopra e aveva tra virgolette lo stesso problema, quindi ci andava a toccare con il tallone nel dietro della scarpa sopra. Sicuramente poi faranno mille scarichi aftermarket da poter modificare e cambiare, però sì, questa cosa non mi ha fatto impazzire. Per il resto l'ho trovata una moto bella, abbastanza massiccia, perché un po' come la LMT09, anche lei aveva questo serbatoio molto massiccio, comoda, quindi la posizione in sella era abbastanza rialzata, perciò molto molto bella anche questa nuova Hornet 1000. Piccolo appunto sulla nuova versione 2025 della mia moto, quindi la nuova Hornet 750 con il nuovo gruppo faro, che non mi piace, preferisco il gruppo faro che ho nella mia. Elettronica ampello rivista, soprattutto il display TFT rivisto nella grafica, sospensioni migliorate e in più un riding mode, quindi andiamo a due riding mode personalizzabili. Possono essere degli aggiornamenti minori, però fa sempre comodo avere degli aggiornamenti. La questione del faro, sì, va un po' a richiamare la nuova Hornet 1000. A me non fa impazzire, non mi è piaciuto, però devo dire che anche inizialmente la CB750 Hornet 2023 non è che mi faceva impazzire neanche lei, poi l'ho scelta come moto e mi è piaciuta. Magari tra qualche mese cambio idea, però ricordo sempre che l'estetica è molto soggettiva, quindi quello che può non piacere a me magari piace ad altri e quello che può piacere ad altri può non piacere a me. L'altra super novità di quest'anno di KTM, restando sulle sportive, è la 990 RCR. Allora, ovviamente arancione molto bella, il colore è bellissimo. Nera secondo me perde tutti quei dettagli che può avere appunto la carrenatura e la moto stessa, quindi non è secondo me un colore molto idoneo per una moto del genere. Un po' troppo estrema secondo me, infatti c'era anche in esposizione la versione track, assurda, veramente assurda. Sicuramente sarà una moto della madonna. Quando mi ci sono seduto sopra me l'aspettavo in realtà più grossa, più lunga. In realtà invece mi ha dato un po' l'idea di compattezza comunque. Non mi sentivo ad esempio che il muso della moto mi finisse a due metri di distanza, come magari molte altre moto sportive mi hanno trasmesso. Quindi molto compatta, pur essendo comunque una moto molto grossa, perché la carrenatura è molto grossa, soprattutto sul davanti. Posizione in sella veramente caricata proprio in avanti. Troppo, troppo, troppo ovviamente per me. Non credo mi riuscirei a trovare mai a guidare una moto del genere. E magari è la moto più facile e più divertente da guidare del mondo. Non mi sono piaciute diciamo tendenzialmente due cose. Queste famose alette aerodinamiche per il downforce con velocità superiore a 250 km orari. Un po' troppo flessibile lì per lì. E' anche vero che ovviamente era pieno di gente, quindi tutti che toccano, tutti che fanno, potrebbe starci che magari si era smollato qualcosa. E soprattutto una cosa che non mi è piaciuta, la tanta tanta tanta, tra virgolette, plastica, soprattutto della carrenatura. E' una brutta sensazione che quando andavo diciamo a stringere con le gambe, come per voler agguantare diciamo il serbatoio, come in teoria si fa, un po' anzi andava a deformare la carrenatura e quindi era un po' evidente che, non lo so, mi dava l'idea come che si schiacciasse un po' troppo, che desse l'idea proprio di non di qualità molto elevata. Cosa che mi ha confermato anche Andrea, però ribadisco potrebbe essere magari la moto che va meglio in assoluto tra le sportive presentate. Semplicemente magari io non l'ho capito, non avendola provata su strada ovviamente, e non so neanche se mai riuscissi a provare una cosa secondo me tanto così estrema su strada. Tra tutte quelle che ho visto diciamo che è quella che mi è piaciuta di meno di tutte. Stand Aprilia invece mi è molto 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 piaciuta, la nuova RS660, soprattutto la Factory. Avevo visto qualche foto prima di andare a Eicma e vederla dal vivo, non mi convinceva diciamo questo, io lo chiamo questo becco che ha l'anteriore sotto il gruppo Fari, invece poi vedendolo dal vivo mi sono un po' ricreduto, mi è piaciuta veramente tanto. E questo cambia tutto, come gli ho detto lì per lì ad Andre, perché ho già fatto un video dove provavo l'RS 457 nuova e esteticamente invece questa nuova RS660 mi è piaciuta un sacco, mi ci sono seduto, mi ci sono trovato molto bene, mi ha dato idea di una moto sportiva ma comoda, un po' come la nuova Panigale V2 mi ha dato. Bicilindri con fronte marcia, 105 cavalli, forse potrebbe essere quello che potrei cercare io su una moto sportiva al momento. E quello che mi aveva colpito soprattutto dell'RS 457 è stata la ciclistica. Se quella stessa ciclistica che già va molto bene sulla 457 è stata replicata, migliorata magari sulla nuova 660 Factory, tanta roba, sinceramente io non vedo l'ora di poterla proprio provare, farci proprio mezzo giro o anche un giro per effettivamente dire questa moto sportiva potrebbe essere una moto da poter utilizzare tutti i giorni, per me ovviamente. Da una parte lo spero perché mi è piaciuta veramente tanto e dall'altra chiaramente devo vedere se avrò mai l'occasione, spero di poterla provare quanto prima. Di contro invece, restando sempre su Aprilia, non mi è piaciuta esteticamente la tuono, la nuova tuono. Non lo so, io ho un'idea che la moto naked esteticamente deve essere fatta in modo diverso, poi per carità assolutamente c'è tanta gente a cui piace la tuono, c'è tanta gente che ha scelto proprio la tuono, perché è fatta così e assolutamente rispetto i loro gusti e tutte le scelte. Dico solo che personalmente non è entrata nelle mie corde, non è nelle mie corde se dovessi scegliere tra tutte le altre proposte di naked, media e cilindrata che ci sono in giro. Poi ovviamente vi voglio parlare di due moto che mi sono piaciute veramente tantissimo, moto ovviamente cinesi. Sto parlando la prima della Zontes con la 703RR, che è la moto sportiva, molto molto bella esteticamente. Il motore secondo me potrebbe essere tanta roba, perché è un 700 di cilindrata, tre cilindri, con 95 cavalli e 75 Nm di coppia. E tra l'altro c'è anche una ciclistica molto interessante, perché stiamo parlando, leggendo un po' di caratteristiche tecniche, telaio doppia travia in alluminio, forcellone in alluminio, sospensioni marzocchi all'anteriore, completamente regolabile, quindi precarico, estensione e compressione, ed il mono ammortizzatore regolabile in precarico ed estensione. C'è anche una bella pinza freno radiale a quattro pistoncini, di, io lo chiamo J-Juan, ma in realtà, come vi diceva Andrea, J-Juan, ed esce già con Michelin Power 6. Moto molto bella esteticamente e se il prezzo è quello giusto, secondo me, potrebbero venderne un sacco, perché è veramente bella. Poi, soprattutto, bianca con questi dettagli rossi, a me è piaciuta veramente un casino. E vi posso assicurare, essendomi seduto sopra, che la sella era veramente morbida e troppo troppo comoda. Ci stavo proprio bene sopra. È una moto che prenderei, sinceramente, in seria considerazione. Se volessi una sportiva piccola, media, di cilindrata, però mi volessi togliere questo schizzo di avere una sportiva. Molto bella anche la versione naked, che è molto aggressiva anche quella. Stesso motore, credo, e direi stessa ciclistica, ovviamente rivista in versione naked. Però, figa, secondo me queste moto cinesi stanno facendo tanta, tanta bella roba. E poi, CFMoto 675 SR, che anche quella mi è piaciuta veramente un sacco esteticamente. C'è anche già qualche video di gente che l'ha provata e effettivamente sta dicendo che è una gran moto, anche quella tra cilindri. È molto molto interessante. Sono quelle piccole motine che comunque, boh, magari non gli daresti neanche un euro, però poi magari si rivelano veramente delle ottime moto e molto molto divertenti da guidare. E perché no, anche il QJ Motor, che è esteticamente bellissime anche quelle. C'erano dei dettagli, paura, molto molto belle. A Andre le è piaciuta veramente un sacco la QJ. Però devo dire che anch'io, io non ho pregiudizi su queste moto cinesi, perché poi se vanno bene e si dimostrano essere delle ottime alternative alle classiche, che ne so, o da Yamaha, Triumph, Daytona, eccetera, eccetera. Tanto il mercato più o meno è quello di appartenenza, la categoria è più o meno quella. Io dico perché no. Se una moto può costare anche un qualcosa di meno, avere delle linee belle lo stesso, esteticamente bella e soprattutto un buon motore, una buona ciclistica e che ti fa divertire a guidarla, perché no? Quindi io sono molto contento di queste moto cinesi che stanno uscendo fuori. E se andiamo a vedere, hanno proprio sulla carta delle ottime caratteristiche e sarei proprio curioso di poterle provare su strada se effettivamente quelle caratteristiche su carta si dimostrano tali. Poi in realtà ragazzi, ehi, ma c'è stato veramente il mondo da vedere. Io non posso fare un video che dura mille ore e non ho voglia neanche sinceramente di fare varie puntate su questa cosa. C'è stato tanto da vedere, ci sono state tante cose interessanti. Mi sono proprio divertito a girare un po' tutto quanto e ho fatto vedere non solo le classicone, i classici nomi giganteschi. Mi sono piaciute molto tutte le proposte magari delle moto cinesi, come ho appunto detto prima, CFMoto, Zontes, QJ. C'erano poi delle opere d'arte, quelle di MV Agusta, che erano moto bellissime. L'F3 competizione era veramente qualcosa di... Cioè, la devi prendere e mettere in salotto lì. Quello è il suo posto, veramente bella. Più tante altre cose che chiaramente non sto magari qua a menzionarvi più di tanto. C'erano tante proposte elettriche, solo che a me l'elettrico sinceramente a me ora non interessa, non sono interessato. Le ho guardate con curiosità, ma preferisco di certo ancora l'endotermico. E tutto sommato comunque è stata una bellissima giornata, mi sono divertito un casino. Se avete l'occasione, se ci siete andati anche voi, fatemi sapere che cosa magari vi ha colpito di più, di qualche brand che magari non ho menzionato io. Io dico che sicuramente di bombe ne hanno tirate fuori tutti quanti. Infatti sono stato molto contento di vedere molte moto nuove, quindi delle nuove proposte da parte di tutti i costruttori. E sono proprio curioso di vedere ora più avanti, dove magari la stampa potrà fare il test ride, vediamo effettivamente queste novità come vanno. Ragazzi, io spero che questo video non sia troppo lungo, spero che vi sia piaciuto un po' il mio EICMA 2024, un po' come ve l'ho raccontato. Se vi è piaciuto il video, ovviamente fatemelo sapere con un bel like. Io comunque mi devo un po' riprendere, perché nonostante tutto è stata una giornata un po' impegnativa, ho camminato veramente un sacco, però sono stato molto molto contento di esserci andato e aver visto con mano tante belle cose, tante belle moto, tante belle ragazze, perché anche quelle c'erano, è innegabile. Io come al solito vi ringrazio e vi do appuntamento a un prossimo video. Ciao!